Siamo nella zona centrale di Formello. Oggi vi mostrerò un immobile di circa 150 metri quadri, molto luminoso su un unico livello. L'immobile è composto da un ampio ingresso, un soggiorno e una cucina abitabile con camino e uscita sul primo balcone. Lungo il corridoio troviamo due camere matrimoniali e una cameretta. Proseguendo abbiamo un bel bagno fornito sia dalla vasca che dalla doccia, un doppio lavabo, una zona lavanderia e un ulteriore terrazzo. Grazie a tutti. Completa l'immobile, la cantina e un piccolo salone al piano seminterrato. Inoltre abbiamo il giardino e un posto auto in comune. Per ulteriori informazioni potete visitare i nostri siti rogeromarconi.com e tempocasa.it